Presentare e configurare oggi un macchinario non è più un problema. Tutto è più semplice grazie alle rappresentazioni basate sull'animazione interattiva 3D. Il tuo prodotto diventerà affascinante come un qualsiasi oggetto di design ed attirerà l'attenzione dei tuoi clienti, soprattutto quelli nuovi. Potrai aumentare il tuo fatturato perché potrai velocizzare il tempo di vendita. In poco meno di due minuti puoi far vedere le caratteristiche della tua macchina, coinvolgendo il tuo cliente in un'esperienza nuova e aumentando l'autorevolezza della tua azienda. Non tutti i tuoi competitor hanno questa possibilità ed è il momento di agire, proprio ora, oggi, subito. Con animazioni studiate è possibile mostrare le funzionalità importanti del tuo prodotto. Tutto questo velocemente, semplificando i concetti complessi e facendo risaltare le caratteristiche del tuo macchinario. Inoltre, creando anche un video, potrai avere visibilità dovunque, su smartphone, tablet e PC. Come spesso si dice, un'immagine vale più di mille parole.